Shopping di Natale 4.0. Sempre più italiani hanno scelto di affidarsi ad internet per gli acquisti da mettere sotto l'albero. I pagamenti sono stati affidati nella maggioranza delle compere sia nel web che nei negozi alle carte di debito, credito o prepagate gestite da SIA. Sono stati 73 milioni in crescita del 12,3% sullo stesso periodo 2016. Di questi circa 15 milioni sono stati per acquisti online oltre il 20% del totale e in crescita del 25% rispetto al 2016. Mentre nei negozi tradizionali, dal lunedì 18 dicembre a domenica 24, i pagamenti sono aumentati del 9%. Lo spiega la stessa società che gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia. Dal primo al 24 dicembre SIA ha gestito complessivamente 223 milioni di operazioni con carte. Il 23% del totale dei pagamenti ha riguardato acquisti su siti di e-commerce per un totale di quasi 51 milioni di transazioni. Nei negozi tradizionali i pagamenti con carta sono aumentati dell'8%.